Grazie per la visione! Finale di primo tempo tra New Team e Abusivi, 2 a 3 il parziale, andiamo un po' dal portiere della New Team, portiere è giusto un flash, siete sopra di una rete, 3 a 2, una partita un po' in salita però recuperabilissima, non trovi? Sì sì siamo stati sfortunati, cosa è mancato in questo avvio di primo tempo? Un po' una pecca di precisione, va bene, bocca al lupo per la ripresa, andiamo un po' dall'altra compagine, ovvero gli Abusivi, vediamo un po', ecco, non niente, gli ho dato, gli ho dato in qua, 3 a 2, parziale che vi soddisfa? Sì sì, vabbè diciamo che sta giocando D'Amato, è lui l'uomo partita Diciamo che il parziale sarebbe potuto essere più penalizzante per gli avversari, avete avuto un'ottima palla a gollo con Arcopinto sul finale Sì, potremmo fare il 4 a 2, però va bene così Nella ripresa cambierete qualcosa? No, credo che la difesa sarà sempre la stessa D'accordo, va bene, bocca al lupo Siamo nel post partita tra New Team e Abusivi, terminata 5 a 4, siamo con i meni in campo, taglia la tela MVP di questo match e D'Amato, migliore dei suoi Cominciamo da te, D'Amato, una partita, diciamo, che è terminata 5 a 4, ma forse dei meni davate qualcosa in più Sì, non pare essere, come si dice, presuntuosi, però secondo me meritavamo la vittoria, comunque abbiamo fatto un buon primo tempo Anche il secondo non è stato male, solo che la mancanza del portiere si è sentita, infatti abbiamo subito molto quello stupidi, però va bene così Vuoi dire qualcosa ai tu ragazzi? No, va bene così, 4 partite, 4 sconfitte, continuiamo così e andiamo bene Va bene, complimenti comunque per la prestazione per i gol stupendi e in bocca al lupo del proseguo Prego Taglia la tela, ottima la tua partita, ma non una grandissima partita della New Team, diciamo che abbiamo visto prestazioni migliori Sì, va bene, abbiamo giocato meno di quanto sappiamo giocare, sono stati anche bravi gli avversari Penso che alla fine siamo stati aiutati dalle buone qualità tecniche dei nostri giocatori Vabbè, che dire, miglioreremo partita per partita, siamo solo all'inizio del partito Vabbè, un'ottima squadra, diciamo, vince anche quando non gioca bene, come è successo oggi Sì, sì, vabbè, oltre questo diciamo che siamo stati anche comunque un po' forti noi Va bene così Ti fa onore questa missione Sì, la fortuna a volte la si ha, a volte l'hanno gli avversari, questo è il calcio Per adesso va bene così e la prossima volta cerchiamo di giocare meglio Giustissimo, vuoi dedicare la prestazione a qualcuno in particolare? Questa prestazione la vorrei dedicare ai miei compagni e alla mia famiglia D'accordo, va bene, complimenti e in bocca a lui il prosiego Grazie 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 Grazie